Dalle 19 di stasera parte lo sciopero di 48 ore dei benzinai su tutta la rete stradale del paese, chiusi anche in self, lunghe code e distributori pressi d'assalto. Il gruppo Grimaldi verso una flotta ultra-green, esercitato l'opzione per altre 5 car carrier a Moniaridi. Nei prossimi 5 anni, investimenti di 2 miliardi e mezzo per 25 nuove navi. Segnali di ripartenza per l'economia dell'Eurozona. L'indice PMI in composito torna sopra i 50 punti, in fase espansiva per la prima volta da 7 mesi. Gas sotto i 60 euro. Dall'Unione Europea ulteriori 500 milioni di aiuti militari all'Ucraina. Kiev spinge per i tank, ne servono centinaia. Dalla Germania un monito, la Nato non diventi parte del conflitto. Imprese e investimenti per lo sviluppo economico stasera nel talk di Alex Channel. Con Nunzia De Girolamo, tra gli altri vertici di Invitalia, Simest, Kribis, Gran Torto, e Transitalia.